segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te visto che la polemica non riguarda direttamente voi come la pensate ma guardi a sinistra il tema dei meriti e dei bisogni parte un po da lontano insomma bisognerebbe chiamare qui claudio martelli credo che avendo scritto una tesi in un congresso il partito socialista 40 anni fa credo potrebbe essere in grado di poter esprimere meglio di me questo concetto la prova a sintetizzarlo così il merito concettualmente è una delle poche cose di cui può disporre una persona che non ha nulla e quindi in sé non è una parola né di destra né sinistra ma è il riconoscimento di dover far crescere sulla scala sociale chi merita e non ha altri elementi il punto è come viene utilizzato come viene inserito e come viene agganciato cioè legare il tema dell'istruzione che è un diritto che deve essere come dire spalmato su tutti e che deve essere assicurato in particolare a quelli che hanno più difficoltà non solo in termini di censo ma anche in termini di apprendimento per esempio e immaginare che vi sia una scuola nella quale il merito diventa mandiamo avanti più bravi e accantoniamo quelli problematici quelli che non ce la fa lei sospetta che questo sia bisogna intendersi sul concetto delle parole è un po come il sovranismo alimentare no allora prima di entrare in una discussione ideologica che sempre un errore bisogna guardare laicamente al significato delle parole e capire chi propone queste parole quale obiettivo si pone allora agganciare il tema dell'istruzione che ripeto è un diritto che deve essere assicurato a tutti in particolare a quelli che non ce la fanno a un tema di meritocrazia che viene tradotto come mandiamo avanti più bravi io credo sia un errore e non so se questo grazie